A Rapallo e Santa Margherita Ligure è radicata ormai da anni una piccola comunità tamil dello Sri Lanka. Dopo gli attentati il loro pensiero è corso subito alle vittime e ai familiari in un misto di angoscia e preoccupazione. Lo racconta Anthony Pillai che a Rapallo gestisce una tabaccheria ed è conosciuto da tutti come villa. Alcuni nostri parenti, dice, erano entrati nella chiesa di Colombo soltanto alcuni minuti prima dell'esplosione. La famiglia dalla parte di mia moglie e i miei cognati che sono passati cinque minuti prima da quella chiesa si sono salvati. Se fossero rimasti ancora cinque minuti in quella chiesa o sarebbero morti o avrebbero avuto delle ferite. Fortunatamente no, però a noi ci dispiace per chi è morto lì e ai parenti che sono lì, che hanno perso dei familiari o hanno delle persone ferite. Spaventa, prosegue il signor Villa, la presenza del Daesh nella nostra isola. In Sri Lanka le religioni convivono ormai senza problemi, aggiunge, dal 2009, quando terminò la guerra trentennale trattamille singalesi. Il conflitto aveva lacerato il paese, poi la speranza di una ripartenza in tutti i sensi, coronata anche dalla visita di Papa Francesco nel 2015. Dopo la guerra civile che è stato il giorno che hanno smesso, fino adesso, anzi, si sono stati degli sviluppi e il paese è abbastanza progredito. Solo che adesso siamo ritornati al vecchia maniera, con l'attenzione e paura di uscire e entrare. Per pregare per le vittime degli attentati di Pasqua, per le loro famiglie, ma anche per la pace in Sri Lanka, la comunità tamil del Tiguglio invita tutti ad una messa che sarà celebrata domenica 28 aprile alle ore 12 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Faremo la messa in italiano cantato, dei pezzi lo faremo nella nostra lingua, tipo il canto delle crastie e le preghiere dei fedeli, verrà fatta in italiano però fatta dai tamil dello Sri Lanka. Grazie. Grazie.